Cenato abbiamo cenato, bevuto abbiamo bevuto, parlato abbiamo parlato adesso è tempo di leggere ho letto oltre i cantiere Fenomenologia degli Umarens e ho aperto a caso, non a caso e ho subito imparato una cosa il vero segreto di questo libro è che parla di sdaure ma non ci sarà mai un libro sulle sdaure agevolo leggete questo titolo della locandina questo libro bello, graficamente bello importante e sereno molto sereno non con l'accezione politica quindi bene, leggetelo anche al contrario come faccio io, a naso ciao